In modo ultrafreggio, in tonalità di Do, è composto dalle seguenti note. Allora, partiamo subito dal Do. Tra il Do e il Re bemolle c'è un semitono, tra il Re bemolle e il Mi bemolle un tono, tra il Mi bemolle e il Fa bemolle, che sarebbe il Mi, c'è un semitono, tra il Mi e il Sol c'è un tono e mezzo, tra il Sol e il La bemolle c'è un semitono. Poi si passa al successivo che è tra l'A bemolle e il Si bemolle e bemolle, doppio bemolle, che sarebbe il La, c'è un semitono, e tra il La e il Do c'è un tono e mezzo. Come puoi ben vedere, ci sono in pratica un sacco di variazioni, sempre nella direzione a scendere dei flette. E sono il Re bemolle, il Mi bemolle, il Fa bemolle, il La bemolle e il Si doppio bemolle, che in pratica sarebbe il La. E il Fa bemolle, in pratica, sarebbe il Mi. Sono quindi una, due, tre, quattro, cinque variazioni nella direzione a scendere dei flette, cioè dei bemolle. Grazie. 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 Grazie.